Due anni fa si spegneva Castel San Giovanni Alberto Ginofero, il cui nome insieme a quello del padre Renato era legato al mondo del ciclismo locale. Fu lui a portare a Castel San Giovanni la tappa del Giro d'Italia, a organizzare eventi sportivi come la Mediopo. La moglie Sandra ha voluto ricordare il marito Alberto nel modo più bello e cioè regalando un'ambulanza ai militi della pubblica assistenza Valtidone Valluretta, gli stessi che durante i mesi più duri dell'emergenza sanitaria non si sono mai fermati, contribuendo a mantenere saldo un tessuto sociale che la pandemia ha rischiato di sfaldare. Il mezzo è stato inaugurato sul sagrato della collegiata, sulla fiancata sono impressi i nomi di Alberto e Renato Ginofero, padre e figlio legati in vita come anche nel ricordo dopo la loro morte. Volevo fare qualcosa per in memoria di Alberto, poi tramite un'amica che è Roberta, che è stata preziosissima anche in questo, che ha organizzato il tutto, abbiamo parlato e mi ha anche indicato la pubblica di tener conto della pubblica, il che mi ha fatto molto piacere, poi conoscendo Mariano ci siamo accordati, avevamo bisogno di un'ambulanza e io con piacere gliel'ho presa. Grazie a questo gesto di generosità la pubblica assistenza di Castel San Giovanni ha potuto in parte rinnovare il suo parco mezzi. Oggi la pubblica ha sette ambulanze più un'automedica e un doblò, questa ambulanza come fiore all'occhiello andrà a sostenere l'emergenza, cioè sarà a disposizione di tutti i bisognosi della valle e soprattutto di Castello che avranno bisogno di questa ambulanza, quindi il mio ringraziamento a Sandra è doveroso e soprattutto viene dal cuore perché oggi la pubblica aveva bisogno probabilmente di alcuni mezzi nuovi perché avevamo un parco macchine piuttosto vecchio e con l'aiuto di Sandra oggi torniamo a essere al meglio.